Sono accusati di aver sottratto dalle casse di una nota SRL del settore delle acque minerali una cifra di circa 6 milioni di euro. Con questa ipotesi, 14 persone in queste ore hanno ricevuto gli avvisi di conclusione dell'indagine della Guardia di Finanza sul fallimento della Azzurrina Acque, società che in precedenza gestiva il marchio dell'acqua minerale di Careggina in Garfagnana. Nei guai sono finiti i vertici della precedente società, che non è più titolare del marchio, passato ad una nuova realtà imprenditoriale del tutto estranea ai fatti. Nel mirino è finito un noto imprenditore già conosciuto per reati economici finanziari su cui si sono concentrate le indagini delle fiamme gialle. Gli inquirenti hanno ipotizzato una serie di movimenti per distrarre i fondi aziendali, tali da provocarne il fallimento. L'indagine, che ipotizza la bancarotta fraudolenta, si è estesa agli ultimi anni di gestione della società, che per l'accusa sarebbe stata gradualmente spogliata dai 14 indagati di tutti i suoi principali asset attraverso la cessione dello stabilimento produttivo, degli impianti e delle attrezzature e del proprio marchio a beneficio di imprese che, stando agli inquirenti, sarebbero riconducibili agli stessi indagati. Altre somme sarebbero invece state trasferite dai conti correnti aziendali ad altre due società operanti nella grande distribuzione con sede in Emilia-Romagna e riconducibili anch'esse agli imprenditori coinvolti nell'inchiesta. Tra le contestazioni, anche l'accusa di autoriciclaggio per aver cercato di trasferire oltre mezzo milione di euro ad una terza società estranea, con lo scopo di sottrarre il denaro alla procedura fallimentare.